Da quant'è che non passano a pulire? Sono anni! Sono anni che non puliscono. Strade franate mai rimesse a posto, manutenzione del verde pubblico inesistente da anni, mura crollate su dirupi e sostituite con barriere d'emergenza diventate definitive. Quello che vive Zangarona, frazione Herbresh di La Mezzia Terme, abitata da 400 anime, è una vera e propria situazione di abbandono, con casi estremi di grave pericolo anche per l'incolumità pubblica, denunciati da anni dai cittadini senza ottenere nessun risultato. Così da anni. L'unico intervento che fanno, quando ti lamenti più del dovuto, vengono, rimettono il cartello e se ne vanno. Non hanno mai avuto nemmeno la compiacenza di rimuovere la frana, praticamente. E sono diversi gli esempi di frane mai rimosse o di strade che non vengono interdette al pubblico e sono regolarmente percorse dai cittadini, tra vegetazione incolta e cedimenti strutturali. I casi limite sono tanti. Questa è una strada all'interno del paese, che è molto frequentata dai residenti, perché è una strada che si riesce a percorrere con quel classissimo tipo di mezzo e sono la bellezza di 5-6 anni che ci troviamo in queste condizioni. Nelle strade la vegetazione cresce rigogliosa. Situazione del verde pubblico a cura dei cittadini, perché praticamente non c'è nessuna manutenzione né periodica né in nessun modo. Abbiamo avuto il dibattito con l'amministrazione Speranza, poi con quella Mascaro e adesso stiamo andando avanti con i commissari, ma non c'è nessuna risoluzione alquanto. Tiziana Bagnato per la CNews24. Tiziana Bagnato per la CNews24.